Quindi pare riaprirsi la partita, però insomma parliamo di anticipazione, quindi vi do un'anticipazione, si dice che tutto ciò che vi comunicherò a breve sul tema verrà votato e verrà posta la fiducia giovedì, quindi questa diciamo consideratela come un'anticipazione, poi farò un ulteriore video per entrare nello specifico, però pare che il ministro dell'economia e delle finanze si sia effettivamente accorto che c'è stato un buco pari a 2,45 miliardi che l'Italia non ha riscosso sulle cartelle di cittadini, professionisti, aziende. Se ne sono accorti, se ne sono accorti e quindi ho detto sai che facciamo, visto che non ci ha pagato nessuno, facciamo che riapriamo i termini per la rottamazione e per la pace fiscale dal 2020 ad oggi. Buona notizia, in parte aggiungerei perché su alcuni punti mi aspetterei delle modifiche, ve la riassumo molto velocemente. Tutti quelli che sono decaduti dalla rottamazione terro e dal saldo estralcio avranno la possibilità di reintegrarsi, essere riammessi, purché vadano a pagare. Le rate in scadenza nel 2020, quelle che non hai pagato nel 2020, dovranno essere corrisposte entro il 30 di aprile. Quelle in scadenza rispetto alle rottamazioni, rispetto alla pace fiscale nel 2021, devono essere pagate, e che non sono state pagate, devono essere pagate entro il 31 luglio del 2022. E slittano invece al 30 novembre 2022 tutte le rate in scadenza quest'anno, appunto sempre nel 2022. Questo è l'emendamento approvato ieri in Commissione e Bilancio del Senato e si aspetta la conversione entro insomma questa settimana. Inoltre tutte le procedure esecutive che sono già in atto a causa insomma dei contribuenti che non hanno pagato le cartelle eccetera eccetera, le procedure esecutive sulle procedure su conto correnti, pignoramenti, pignoramenti perso terzi, pignoramenti immobiliari eccetera eccetera, verranno bloccate e potranno riprendere solo dopo il mancato pagamento entro i termini previsti. Ora capite che il punto di debolezza di questa proposta, pur insomma sottolineando il fatto che lo Stato italiano si è reso conto che c'è gente in Italia che è messa a 90 gradi, stiamo parlando, aspettate che vi dico un po' di numeri, ma una roba come 1 milione e 25, 1,25 milioni di contribuenti, scusate. Lo Stato si è reso conto insomma che esistono queste persone e che oltretutto anche loro ci stavano perdendo qualche miliardazzo. Se ne sono resi conto e quindi ho detto facciamo qualcosa. Ora il problema è che questa è una soluzione, riammettere tutti. Ora capite però che se tu mi metti il 30 di aprile come scadenza per pagare tutto ciò che non ho pagato nel 2020, 31 di luglio la scadenza per pagare tutto ciò che non ho pagato nel 2021 e 30 di novembre per tutto ciò che non ho pagato nel 2022, insomma è una cazzata no? Come cazzo faccio a pagare tutta sta roba da aprile a settembre? Cioè come faccio? Ecco io mi auguro, dato che c'è scritto così e viene riportato così su tutti i giornali oggi questa notizia, che si sta discutendo appunto se mantenere queste date per i pagamenti oppure prorogarle. Ora io sinceramente arrivato a questo punto siamo a marzo del 2022 e vi ricordo che dopo la sospensione avvenuta per un anno e mezzo di tutte queste cartelle non c'è stato nessun, nessun emendamento da parte del governo per andare incontro alla situazione catastrofica che c'è in questo momento in Italia. Nei prossimi giorni sto raccogliendo un po' di articoli e dati, ve li porterò, che sono scioccanti, dati parlo di confederazioni ufficiali, no? Bene, prendiamo atto di questo e prendiamo atto del fatto che questa è la prima azione di questo governo, di questo esecutivo, per trovare una soluzione. Io mi auguro che insomma queste date, come dicevo poc'anzi, siano un po' più allungate nel tempo. Vi terrò informati perché questa è stata votata in commissione bilancio, questo emendamento, ma deve essere approvato in Senato. Si parla di mettere la fiducia, quindi vedremo e vi terrò informati comunque all'interno di questo canale. Quindi ci aggiorniamo tra qualche giorno. Grazie a tutti.